Ciao, Teo! Solito caffè brioche? Sì, grazie. Il caffè fa male un po' lungo, va? Ma il podcast non lo fai più? E come no, esce tutti i mesi. Anzi, oggi è giovedì, no? Eh, ho pubblicato stanotte il trentaseiesimo episodio. Ah sì? Non ho visto niente. L'ultimo che ho sentito è quello della scorsa estate, quello sui giardini. Ma no, ma ti sei perso un sacco di roba, allora. Tu dov'è che li ascolti, i podcast? Su Spotify. Spotify, eh? Vabbè, se cerchi il motografo vai alla pagina del podcast, dovrebbe esserci il bottone segui. O se no, senti, mi cerchi su Facebook o su Instagram, mi segui lì ogni volta che esce una puntata, te lo dico. Figo, lo faccio subito. Allora, il motografo... Eccoti qui, segui. Il motografo. In questa puntata, il motografo sparge senno di poi a piene mani. Dedica qualche minuto ad un capolavoro oscurato da un vicino ingombrante e a dei forti dubbi enologici. Lo scorso mese vi avevo lasciati, da quella carogna che sono, sulla soglia della sagrestia di Santa Maria delle Grazie, promettendovi che vi avrei parlato del refettorio del convento e, ovviamente, della celeberrima rappresentazione dell'ultima cena che lo decora. A partire dal 1494, come abbiamo visto, Ludovico il Moro avvia un programma di rifacimento del monastero di Santa Maria delle Grazie, affidando a Abramante la ricostruzione della chiesa in forme che noi oggi definiremo rinascimentali. Ma non è solo la chiesa essere oggetto del grande programma di rifacimento. È l'intero convento. E così, sulle due pareti del refettorio, si decide di realizzare una crocifissione e un'ultima cena. La responsabilità della prima fu assegnata a Donato Montorfano, che completò il lavoro in un anno scarso, mentre quella dell'ultima cena è, ovviamente, di Leonardo da Vinci, che porterà avanti il cantiere fino al 1498. Leonardo affronta questo incarico come li affrontava tutti, alternando periodi di lavoro febbrile in cui non posava il pennello nemmeno per prendere un sorso d'acqua e giorni in cui non muoveva un dito, limitandosi ad osservare la pittura o semplicemente dedicandosi a tutt'altro. E come in ogni progetto in cui metteva mano, Leonardo non si è accontentato di fare come facevano tutti. Lui aveva il bisogno fisico di sperimentare e di spingersi oltre i limiti della tecnica, di piegare la tecnologia esistente alle sue necessità. E in particolare, Leonardo detestava la tecnica dell'affresco. Poiché in questa tecnica è necessario passare il colore sull'intonaco ancora fresco, a cui si lega rapidamente e indissolubilmente. Il pittore quindi è costretto a lavorare velocemente e senza ripensamenti. L'esatto contrario delle abitudini di Leonardo, che aveva il vizio di tornare sui suoi passi, modificando e correggendo le opere, fino a raggiungere la perfezione. E in più di un'occasione, quindi, Leonardo si inventa una tecnica nuova, alternativa all'affresco, spesso con risultati disastrosi. Il caso più lampante di poco successivo alla realizzazione del Cenacolo è quello della battaglia di Anghiari a Palazzo Vecchio, a Firenze. Qui, Leonardo tenta di recuperare la tecnica dell'encausto descritta da Plinio il Vecchio, ma con risultati così fallimentari da impedirgli persino di portare a termine l'incarico. A Milano va un po' meglio. Con una tecnica a base di tempera grassa e biacca, Leonardo riesce a completare l'opera, con una resa dei dettagli, delle trasparenze e degli effetti luminosi sconosciuta alla tecnica tradizionale. Già nel 1499, però, quando lascia Milano a seguito dell'invasione francese, Leonardo nota una grossa crepa in basso a sinistra. Dopo soli vent'anni, Vasari constaterà un degrado marcatissimo dell'opera, e già alla metà del Seicento si parla solo di tracce confuse. Tu stai dicendo che Leonardo era scarso? No, ci mancherebbe, scarso no. Però era un praticone, un casinista. Nel senso che anziché limitarsi alla tecnica tradizionale collaudata, faceva esperimenti e tentativi più o meno riusciti. Il che non sarebbe un problema, anzi. Il fatto è che questi esperimenti li faceva direttamente in quelli che avrebbero dovuto essere i suoi maggiori incarichi, ed è facile immaginare quanto poco questo, insieme alla sua lentezza, potesse piacere ai committenti. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Per quanto male, anche grazie a una serie di pessimi restauri, il dipinto... Stavo per dire la fresco, mannaggia l'abitudine. Il dipinto, dicevo, è sopravvissuto fino alla metà del Novecento. Poi lo scemo pelato ha preso il potere e ha deciso di allearsi con quell'altro scemo, quello coi baffi tagliati male, e insieme hanno deciso di fare la guerra contro la Francia e la Gran Bretagna. Ecco, il fatto è che i britannici sono un po' come il Cavaliere Nero. E per fiaccare le potenze dell'asse, adottano la dottrina dell'area bombing, con gli Alifax e i Lancaster che riversano sulle città tedesche ed italiane migliaia di tonnellate di bombe per volta. Sono i bombardamenti dell'agosto del 43, quelli di cui abbiamo parlato con Alessandra Amicoli e Michela Bresciani, seduti in un bunker antiaereo, nella puntata speciale Memoria in Cammino. A Milano andò infinitamente meglio che a Dresda o D'Amburgo, ma parliamo comunque di più del 50% degli edifici della città colpiti, 250.000 senza tetto e 300.000 sfollati, che significa quasi un terzo della popolazione residente. Cito i bombardamenti del 43, perché se oggi possiamo ancora ammirare il Cenacolo, lo dobbiamo non solo alla straordinaria e lunghissima campagna di restauri condotta dal 1977 al 1999, ma soprattutto a Gino Chierici, sovraintendente dell'arte medievale di Milano, che forse per via della sua esperienza nel genio militare, sin dalla dichiarazione di guerra del 40, aveva fatto approntare una struttura protettiva fatta di ponteggi e sacchi di sabbia, che non solo evitarono il crollo della parete quando il refettorio fu sfondato da una bomba, ma protessero il dipinto anche negli anni seguenti, in cui rimase in balia degli elementi. Sì, ok la tecnica, ok il restauro, ok la conservazione, ok i bombardamenti, ok, ma... ma l'opera? Il dipinto? Sebbene io sia nato e cresciuto a Milano, fino a pochissimo tempo fa non avevo mai visto dal vivo il Cenacolo. I restauri sono iniziati prima che io nascessi e si sono conclusi quando stavo iniziando l'ultimo anno delle superiori. E da quel momento in poi mi sono scontrato con l'incubo della lista d'attesa. Le visite sono rigorosamente contingentate per limitare il più possibile le contaminazioni e i danni e per molto tempo la maggior parte dei biglietti venivano comprati dai tour operator da un anno per l'altro. Insomma, per un motivo o per l'altro, per più di vent'anni ho rimandato il mio incontro con Leonardo. Solo a febbraio 2021, quando i musei hanno finalmente riaperto dopo il lungo lockdown, io sono riuscito a rimediare. E ho scoperto che se mai c'è stata un'opera che vista in foto non rende la sua bellezza, beh, quella è proprio il Cenacolo. La qualità plastica e cromatica della pittura leonardesca riportata alla luce dal magistrale restauro di Pininbrambilla Barcilon. È qualcosa che nemmeno la miglior fotografia mai realizzata riesce a trasferire. Figuratevi quello che ho fatto io. È qualcosa che ha a che fare con la luce, quella soffusa che penetra dalle finestre alle spalle della tavolata, aperte su un paesaggio collinare che secondo alcuni rappresenterebbe l'altolario, è quella che illumina i volti di Gesù e dei discepoli. Discepoli che non sono icone o personaggi, sono persone a tutto tondo, ciascuno con la sua espressione, da cui Leonardo riesce a far trasparire il carattere, dal rabbioso San Pietro che brandisce un coltello a Bartolomeo incredulo che balza in piedi, fino a Giovanni, malinconico e rassegnato. Giovanni, che poi lo sappiamo tutti che in realtà è la maddalena, no? Prego? Sì, dico, Leonardo ha ripinto la maddalena, no? L'ha dato a Gesù, no? Perché sapeva che Gesù è la maddalena, hanno avuto un figlio, e con i loro discepoli sono ancora tra di noi. Questo me lo buttate fuori. Forza, vieni con noi. Cosa? Perché? Hai sentito il collega? Andiamo. No, ma che fate? Aia, aia, no, aiuto. Scusate, scusate. Allora, il codice da Vinci potrà anche essere un bel romanzo. E' una truccata. Potrà anche essere un bel romanzo, dicevo, ma come dire, io non prenderei Dan Brown come una fonte affidabile per quanto riguarda la storia dell'arte o l'iconografia. Anzi, meglio, per quanto riguarda la storia e la cultura europea, io non considererei una fonte affidabile nulla discritto da un americano, tranne i testi accademici veri e propri e nemmeno tutti. Dicevo, degli apostoli è inusuale, sebbene non del tutto inedita, anche la disposizione. Non sono ordinatamente disposti in due schiere, innaturalmente rivolti verso lo spettatore come nelle rappresentazioni medievali. Sono riuniti a tre a tre in gruppi disposti secondo un preciso ordine geometrico, ma al tempo stesso in modo assolutamente naturale. Da sinistra, Bartolomeo, Giacomo Minore e Andrea sono balzati in piedi, sorprese ed increduli all'annuncio del tradimento. Accanto a loro, riuniti in un gruppo triangolare, Giude e Scariota, l'unico che guarda verso Gesù e l'unico con il viso in ombra, che indietreggia spaventato, Pietro, armato di coltello che si protende oltre la spalla di Giuda per parlare con Giovanni e Giovanni che quasi volta le spalle al maestro per ascoltare le sue parole. All'estrema destra, il gruppo formato da Simone, Giuda Taddeo e Matteo che gesticolano increduli e un po' più all'interno quello formato da Filippo che proclama la sua innocenza con ampi gesti, Giacomo Maggiore a braccia spalancate e alle loro spalle Tommaso in piedi che con l'indice alzato chiede chiarimenti. In mezzo, isolato dai discepoli da uno spazio che è simbolico prima che fisico, c'è Gesù, il cui viso corrisponde al punto di fuga dell'intero dipinto. Pinimbrambilla Barcellona infatti ha trovato nella fronte di Cristo il segno del chiodo a cui erano fissati gli spaghi usati come riferimento per la costruzione prospettica. Anche il volto di Cristo è tremendamente umano. Non è il classico viso sereno e imperturbabile, anzi, sembra quasi sospirare per la profonda ingiustizia che lo aspetta, quasi anticipando quel famoso Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un'altra cosa che mi colpisce e che spesso non si nota guardando le riproduzioni fotografiche sono i dettagli della tavola. Non c'è il calice e questo ve lo diranno tutti i testi critici perché Leonardo si basa sul racconto del Vangelo secondo Giovanni in cui tutta la questione dello spezzare il pane e del versare il vino non viene mai citata. Non c'è il calice ma in compenso c'è una straordinaria quantità di pane. Almeno una quindicina di panini sono sparsi lungo tutta la tavola sopra la bella tovaglia bianca e azzurra di cui si percepisce la tessitura, la matericità. e insieme al pane compaiono dei bicchieri di vetro di una forma estremamente moderna contenenti un vino che non è proprio rosso e non è proprio bianco. Un rosso molto scarico forse, un rosè, un chiaretto. E poi il cibo. Il cibo che nei Vangeli non viene mai nominato ma che ovviamente ci deve essere stato se no che ce n'era. Alcuni piatti sono vuoti ma sui vassoi ci sono pietanze perfettamente riconoscibili. Uno per dire è pieno di quello che sembra un'impepata di cozze. Un altro sembra portare tranci di pesce bollito accompagnati da spicchi di agrumi e un terzo sembra pieno di qualcosa che potrebbe essere un pasticcio di pasta o qualche altro piatto inumido. Come all'esterno della chiesa il contrasto fra l'architettura solariana e quella bramantesca sembra sottolineare plasticamente lo iato tra la fine del medioevo e l'inizio dell'età moderna così all'interno del refettorio questo iato è ribadito dal paragone fra l'ultima cena e la crocifissione dipinta sulla parete di fronte. Giovanni Donato Montorfano non è l'ultimo dei Pirla anzi fu un pittore molto attivo a Milano sullo scorcio del XV secolo tra i primi a recepire quelle innovazioni che noi definiremmo protorinascimentali filtrate tra Ferrara e Padova e ad amalgamarle nel linguaggio pittorico tradizionale. Solo che davanti alla rivoluzione rappresentata dallo stile di Leonardo la crocifissione di Montorfano sembra vecchia di un secolo anche se è stata realizzata negli stessi anni del Cenacolo tanto che nel 1550 Vasari la definirà di maniera vecchia che per Vasari era probabilmente un insulto o perlomeno una nota di demerito. La verità è che io la trovo comunque bellissima anche perché l'elemento più vistoso di quella maniera vecchia la stilizzazione delle figure dei volti sembra quasi un'anticipazione di quelle evoluzioni che l'arte contemporanea esplorerà dopo che la diffusione della fotografia l'avrà liberata dell'incombenza di riprodurre la realtà. Ma cosa devo dire soffre un po' il fatto di avere un vicino tanto ingombrante certo un vicino su cui però si prende una piccola rivincita che Montorfano la maniera vecchia l'ha adottata non solo nello stile ma anche nella tecnica. In altre parole la crocifissione è un affresco nel senso proprio del termine e diversamente dal capolavoro di Leonardo non ha sofferto così tanto l'umidità e il fumo le intemperie e le altre ingiurie del tempo. Uno potrebbe passare un giorno intero a osservare i due affreschi per coglierne ogni dettaglio ogni punto di luce ogni pennellata. Mi scusi devo chiederle di uscire come? Deve entrare il prossimo turno Ah già giusto come dicevo le visite sono contingentate e si può entrare solo in piccoli gruppi dopo aver atteso il proprio turno in una stanza filtro per lasciare depositare i contaminanti esterni. Ciò significa anche che non si può stare davanti alle opere quanto si desidera sia solo un turno di circa un quarto d'ora. L'effetto collaterale positivo però è che in questo quarto d'ora si è liberi di osservare il cenacolo e la crocifissione in tutta tranquillità senza la ressa tipica dei grandi musei e delle mostre evento. Se siete mai stati al Louvre avete in mente il mucchio selvaggio che si crea davanti alla Mona Lisa. Voi siete lì che cercate di guardare il quadro molto più piccolo di quanto ci si aspetterebbe e di colpo venite spostati da una comitiva di tedeschi che si muove compatta dietro la guida mentre venite colpiti alla nuca dal selfie stick di una turista dell'Ohio e una scolaresca di seriate rompe nella sala gredando come un'orda di tartari. Ecco qui è tutto il contrario. Sì, ci sono comunque quelli che sono venuti solo per farsi un selfie con il cenacolo in cui il loro faccione occupa quattro quinti del fotogramma ma non disturbano. Potete allontanarvi e abbracciare l'opera con lo sguardo poi avvicinarvi e concentrarvi sui dettagli spostarvi a destra e a sinistra per percepire le luci meglio ancora la crocifissione del Montorfano sarà tutta per voi perché purtroppo non se la fila nessuno. Sì, va bene ma adesso deve proprio uscire che gli altri aspettano. Ha ragione, ha ragione, mi scusi. Quando si parla di cibo e di vino noi italiani siamo campioni assoluti di invenzione della tradizione. Siamo così ossessionati dalla ricerca delle cose come si facevano una volta genuine tradizionali appunto da berci le più clamorose balle che ripetute un giorno dopo l'altro diventano verità accettate. Conosco persone che farebbero a botte per difendere la sacra ed inviolabile ricetta della carbonara di cui gli storici della cucina non trovano traccia prima della seconda guerra mondiale. Ma questo forse è l'esempio più innocuo. Più interessante è il caso della pinza romana che da molti ristoratori viene spacciata come la pizza dell'antica Roma. Nonostante sia stata inventata solo una ventina d'anni fa e nonostante nell'impasto compaiano la farina di riso che in Italia si coltiva solo dal Quattrocento e quella di soia che nel nostro paese è arrivata solo alla fine del Diciottesimo secolo. Proprio di fronte a Santa Maria delle Grazie da qualche anno è stata messa a dimora alla vigna di Leonardo. Si sa per certo che nel 1498 il Moro aveva fatto dono a Leonardo di un appezzamento di terreno alle spalle della casa della tela in cui era coltivata una vigna. Pare che Leonardo amasse molto questo terreno in cui trascorreva i lunghi periodi durante i lavori del Cenacolo. Pare che lo amasse tanto da fare carte false perché gli venisse reso dopo il breve periodo di dominazione francese seguito alla caduta di Ludovico tra il 1498 e il 1512 e da lasciare precise disposizioni testamentarie per dividere il terreno fra i suoi collaboratori. Però nei cinque secoli trascorsi alla vigna è successo di tutto. Il terreno è stato lottizzato e in gran parte edificato. Quel che restava della vigna è stato estirpato e il terreno poi destinato a diversi usi fino a diventare addirittura un deposito di macerie all'indomani dei bombardamenti del 43. Nel 2015 però a Milano si teneva l'esposizione universale dal titolo Nutrire il pianeta e il tema dell'agricoltura urbana di colpo diventò di gran moda. Certo c'era tutta la rete delle cascine urbane di cui abbiamo parlato in Coltivare Milano alcune delle quali tra l'altro in quegli anni erano sotto l'attacco della speculazione edilizia e c'era l'orto botanico di Brera sì ma tutto questo non era abbastanza notiziabile se così posso dire e così iniziò un progetto molto interessante per recuperare la vigna perduta. Si scava in quel che resta del terreno in cerca delle antiche viti e qualcosa si trova in effetti. Non ho capito esattamente che tipo di materia organica ma qualsiasi cosa fosse è stato abbastanza per studiare nel DNA. Un'analisi che ha permesso di stabilire è che la vigna di Leonardo o almeno quella singola pianta di cui sono stati trovati i frammenti apparteneva alla varietà della Malvasia di Candia Aromatica il che è una gran fortuna visto che la Malvasia di Candia Aromatica è tuttora coltivata inoltre Po nei colli piacentini e in quelli di Parma dove rappresenta la base di tutta una serie di vini bianchi sia fermi che mossi piuttosto buoni tra l'altro e fin qui come dicevo siamo davanti a un interessantissimo progetto di agricoltura archeologica ammesso che questa disciplina esista l'invenzione della tradizione subentra nel momento in cui dai nuovi filari di Malvasia impiantati in Corso Magenta nel 2018 si è cominciato a produrre un vino chiamato Malvasia di Milano che viene raccontato a livello di marketing come il vino di Leonardo non fraintendetemi è fondamentale dire che i produttori della Malvasia di Milano sono sempre stati molto chiari nel raccontare il progetto di recupero e non cercano mai di far credere che il loro vino arrivi in qualche modo dalle piante tanto amate dal genio toscano quello che non dicono mai però è che il vino della fine del quattrocento era completamente diverso da quello che beviamo oggi è molto probabile che il vino di Leonardo pur figlio della stessa varietà di uva che beviamo oggi fosse molto diverso non solo dalla Malvasia di Milano ma da un qualsiasi vino bianco a cui siamo abituati e che fosse più vicino forse a quelli che oggi sono di gran moda e che vengono chiamati vini orange ed il resto guardate i bicchieri degli apostoli del Cenacolo cosa vi sembra che stiano bevendo al di là del vino che io peraltro non ho ancora bevuto la vigna si può visitare di per sé è solo una vigna per quanto immersa in un paesaggio abbastanza inusuale ma assieme alla vigna si può visitare anche la casa degli atellani decisamente più interessante e che ci riporta direttamente ai tempi del Moro tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 del 400 a Ludovico viene una grande idea perché si dice non realizzare un nuovo quartiere di lusso appena fuori porta dove tutti i suoi cortigiani più fedeli potessero costruire il loro palazzo senza i limiti imposti dalla struttura urbana e soprattutto senza quei fastidiosi rompiballe dei poveri tutto intorno Milano 3 per incontrare gli amici in un clima diverso raffinato e disteso al club del verde o in casella questa sorta di città satellite dove molte famiglie aristocratiche costruiranno i loro nuovi palazzi prenderà il nome di Borgo delle Grazie da quello del convento vicino a cui sorge cioè la nostra Santa Maria delle Grazie appunto tra i fedelissimi del Moro ci sono i della tela o a Tellani come vengono anche chiamati in virtù dello stesso fenomeno per cui i della torre sono diventati i torriani una famiglia di origine lucana giunta a Milano nel corso del 400 e presto entrata nelle Grazie del Moro i della tela costruiranno il loro palazzo proprio di fronte alla chiesa storicamente il palazzo era formato da due case separate affacciate su un giardino comune e rimase alla famiglia fino al XVII secolo per poi essere venduto varie volte riducendosi all'inizio del XX secolo a una topaia oh non sono io a definirlo così è Gianna Casati moglie del senatore Ettore Conti che nel 1919 compra le due case per farne la sua abitazione e qui comincia una nuova operazione di invenzione della tradizione se così posso dire nel senso che Conti affida la topaia al suo architetto di fiducia cioè il genero Piero Portaluppi che la sottopone a una radicale ristrutturazione unendo le due case eliminando molte superfettazioni successive e riportando alla luce a freschi decori quattro cinquecenteschi compresi i ritratti degli sforza attribuiti alla mano di Bernardino Luini ma al tempo stesso Portaluppi deve inventare molto rifà completamente la facciata ristruttura il giardino ma soprattutto elimina il muro che separava le due unità trovandosi a dover riempire dei buchi questo risulta particolarmente evidente nella cosiddetta sala dello zodiaco sulle cui lunette sono illustrate i dodici segni zodiacali solo che eliminando il muro Portaluppi si trova a dover allargare la stanza e per allargare la stanza gli tocca aggiungere due lunette dove fa dipingere le iniziali dei padroni di casa e il loro motto fair sandir cioè fare senza star troppo a parlare a perdere tempo in tutta la casa o almeno nel piano terra che è l'unico visitabile visto che il resto è ancora abitato prosegue questo gioco di vero e di falso di restaurato di reinventato e di creato ex novo che sia lo studio di conti dove gli stemmi cinquecenteschi dell'alleanza fra gli sforza e la corona di Danimarca convivono con dipinti barocchi e con una boiseriva altellinese che è seiscentesca sì ma installata ex novo o che sia la sala dello scalone dove Portaluppi inventa lo stemma araldico degli atellani sulla base di documenti frammentari la grandezza dell'architetto è proprio quella di mescolare l'antico e il moderno il vero e il verosimile il restaurato e l'inventato in un insieme armonico e vivo avete ascoltato Il Motografo rubrica radiofonica di turismo piccolo e destinazioni inaspettate potete trovare le immagini e le mappe di questa puntata e di tutti gli altri viaggi sul sito www.motografo.it Il Motografo è anche su Instagram e Facebook Per contattare il Motografo scrivete a motografo chiocciola motografo.it